Cattedrale, segno di unità. 47 anni fa veniva consacrata dal Vescovo Giuseppe Stella alla nuova Cattedrale di Cristo Re. Martedì scorso è stato celebrato alla spezia appunto l'anniversario della dedicazione della Cattedrale di Cristo Re. Costruita nel dopoguerra e consacrata solennemente il 3 maggio 1975. E invece Fabiano Alto, 750 anni fa, passò alla diocesi. La parrocchia che fa parte del Comune della Spezia ricorderà nei prossimi giorni questa importante ricorrenza della sua storia ecclesiastica, appunto i 750 anni del passaggio dalle pertinenze del monastero religioso dell'Isola del Tino alla diocesi di Luni. A centropagina Musiche per Organi Storici prende il via venerdì prossimo l'edizione 2022 della Rassegna Internazionale d'Organo Città della Spezia. Trovate tutti gli appuntamenti. Il Papa Sarzanese Niccolò V e la Biblioteca Vaticana, così i libri greci mutarono la storia dell'Occidente. Sabato a Sarzana viene presentato un testo che in mille pagine racconta la storia di un pontefice attraverso i suoi libri. E infine la locanda è pronta. La locanda del Samaritano, la nuova struttura della Caritas per l'ospitalità notturna delle persone senza fissa dimora, è stata completata con la ristrutturazione della sede di via 15 Giugno a Pegazzano e sarà inaugurata martedì prossimo alle 16.30 con la benedizione impartita dal vescovo diocesano Lurigi Ernesto Palletti. Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico a venire.